Quest'anno sarà una cosa ancora più wonderful, sarà una bomba! Nicola! Lui se n'è andato. E adesso quindi mantenete? Questa povera Cristo dove la mettiamo a dormire? Ci sarebbe il trullo. È vero! Mai! Ecco appunto. Onoriamo di accoglierla nel nostro unico monumento cittadino, il trullo. Verrete? Il professor Giovanini. A volte il destino fa degli strani scherzi. Nicola! Due gocce d'acqua! Hai capito la vedova! Senti, questi sono passi d'angelo! Rosa Fumetto, Renzo Montagnani. La vedova del trullo. Martedì alle 23.30, 7 gold.